Tanto è caldo il motore. Via dall'elica. Tengo frenato perché potrebbe non stare in avanti. E questi sono... Prendi, accendo. Così mi senti. E parla vicino ormai perché è così. Ok. Ok. Possiamo andare. Inter 74 82. Allora, questa è la soglia a pista. E 1.4 sta a significare 140 gradi di orientamento magnetico. Questa è la soglia a pista. Adesso metto una tacca di flap. Eccolo qua. Metto la pompa elettrica. I comandi sono liberi. Le prove motori le abbiamo fatte prima. Adesso do tutta manetta. Con la pedaliera tengo l'orientamento. Quando arriviamo in alto bianco, sparco. E saliamo quando arriviamo in alto bianco. Ok. 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 Andiamo. Andiamo. Ok. E' un carro. E' un carro. E' un carro. E' un'altra cosa. Se avviciniamo lentamente, sta venendo un po' bianco. Cos'è l'altro bianco? Questo bianco. I bianchi di sicuro che ci sono qui. La rete di blanco. Adesso, vicino al suolo, lo richiamiamo in modo da toccare le più dolcemente il più possibile. Se c'è qualche scorsione, fa parte del gioco. E adesso facciamo un contropista. Così. Torniamo il flap con una bomba e ci amiciniamo.